Siamo l'ortobotanico di Alessandria, oggi c'è stata l'Assemblea dell'Unione Italiana Cechi di Alessandria e qui abbiamo il Presidente Walter Scraffia che direi di condurci lui in questa carellata di ospiti perché credo che ce ne siano di importanti e c'è anche un avvenimento che sarebbe giusto parlarne. Prego Walter. Sì abbiamo, vabbè, tanto... Ti do il microfono Walter, è tu. Ecco il microfono. Allora niente, abbiamo questo ambiente suggestivo che ha accolto l'Assemblea e abbiamo approfittato per farne, diciamo, un evento perché abbiamo intanto ospitato una pittrice che ci ha regalato un quadro tattile del quale poi ci sarà ampia diffusione nel video. Ma qui in questo momento con me ci sono, alla mia sinistra c'è Fabio che è un consigliere che probabilmente diventerà il nostro consigliere regionale, me lo auguro e poi abbiamo i due esponenti, adesso io non mi ricordo più, poi vi presentate voi ma per che cosa? Per un evento secondo me importante, interessante, degno di nota che è l'assegnazione, la donazione di una sedia posturale per un bimbo che è il nostro socio ma ha anche altri tipi di handicap per cui si è reso necessario la donazione di questa sedia noi ci siamo sacrificati per modo di dire perché è stato molto bello fare due cene al buio e quindi il ricavato lo devolviamo per questa donazione. Adesso passo il microfono a Fabio prima perché se no poi dobbiamo fare tutta una serie di spostamenti. Ringrazio Walter e ringrazio Valentina, attuale presidente del Lions Club Host Aquiterme e Massimiliano l'advisor del club per cui abbiamo partecipato nel novembre 2019 alla realizzazione di queste due cene al buio in Aquiterme che sono state il modo e l'unione tra WIC e Lions per concretizzare due obiettivi innanzitutto la sensibilizzazione della cittadinanza alle problematiche che vive la nostra categoria e poi come diceva Walter una raccolta fondi allo scopo di realizzare un progetto condiviso con i Lions e portato a compimento proprio oggi. Questo è l'abbozzo del progetto e lascio la parola a Valentina. Sì, buongiorno a tutti sono Valentina Pilone presidente del Lions Club Aquiterme Host Onorata oggi di essere qui insieme a degli amici a consegnare questa sedia posturale per questo bimbo che ne ha bisogno e è proprio questo l'obiettivo dei Lions, servire chi è nel bisogno e infatti quando lo scorso inverno l'Unione Cecchi ci ha chiesto un nostro aiuto, un contributo Lions e Leo hanno subito prontamente risposto e sono state appunto organizzate queste due cene al buio che vi dico la verità sono state di grande impatto perché in una sola serata alla fine normodotati e non avevano le stesse cose le stesse... non c'erano più differenze tra di noi e il Lions da sempre è molto vicino ai cechi Ellen Keller ci ha soprannominato i Cavalieri della Luce per combattere le tenebre contro la cecità e da lì i Lions fanno appunto per la vista tantissimi service è noto gli screening per l'ambliopia piuttosto che per prevenire la cecità da fiume ma ha anche molto conosciuto i cani in guida di Limbiate e il centro di addestramento di Milano quindi grazie, spero che questa collaborazione continui anche poi per quest'anno insieme a Eleo che hanno sempre l'entusiasmo e hanno sempre nuove idee in cantiere buongiorno a tutti, sono Edoardo Mazzini, il presidente del loro club Aquiterme e come ha detto il nostro presidente del Lions Club padrino Valentina il nostro ruolo è quello di portare il verbo tanto dei Lions nella società come dei Leo nella società anche dei ragazzi, dei bambini ed è proprio per questo che si è svolta questa magnifica donazione il service delle due cene al buio è stato molto molto importante anche dal punto di vista formativo siamo riusciti a captare quali siano le sensazioni di perdere uno dei sensi fondamentali e questo ci ha reso essenzialmente tutti uguali, tutti su un unico piano e la nostra speranza per l'appunto è che sempre con la collaborazione dei Lions sede dell'Unione Italiana Nazionale Ciechi possiamo portare avanti questo service questa cena al buio cercando di sensibilizzare sempre più persone e cercando di aiutare per l'appunto chi come noi diciamo può essere più sfortunato ma in realtà ha una grande fortuna soprattutto perché può approcciarsi al mondo in un modo completamente diverso rispetto al nostro